Ormai ci siamo, il 5 gennaio partiranno i saldi del 2019. Quali sono, Dott. Antonio, le previsioni? Confidiamo comunque nel bel tempo, perché il bel tempo comunque ci favorisce rispetto ai centri commerciali. L'augurio è che chi intende venire a spendere per i saldi scelga i centri storici e non i centri commerciali. I saldi sono un'occasione per fare qualche affare per i cittadini, ma anche per voi per incrementare le vendite? Guardi, assolutamente sì. Oggi i saldi sono un vero affare, perché i magazzini e i negozi sono pieni di cose belle. Purtroppo, diciamo che anche il consumatore non è più quello sprovetuto di una volta. Oggi si cerca di fare il vero affare e oggi nei negozi si possono fare dei veri affari. Che 2018 è stato a livello di commercio a Pescara in tutta la provincia? La novità sostanziale è che comunque, rispetto alle altre stagioni, la prima restate con una serie di eventi e comunque con un turismo che sta sempre scoprendo sempre di più la nostra regione e le nostre spiagge porta in dote a questa città anche un po' di turismo, che non è male. L'amministrazione comunale ha lavorato tanto a Pescara per valorizzare il centro commerciale naturale. Voi come giudicate quanto fatto dalla giunta Alessandrini? Assolutamente positivo. L'assessore Cuzzi negli ultimi anni si è dato tanto da fare e adesso questa amministrazione probabilmente è al capolinea perché a maggio-giugno si voterà. Se saranno rieletti speriamo di dare continuità a questo discorso che si è aperto. Se ci saranno i nuovi speriamo di interleguire con i nuovi per far sì che le politiche che hanno portato oggi ad avere tante situazioni positive su Pescara possano andare avanti. Grazie. Grazie.